musica 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 ci ha sprenuto la mano musica musica mi ha di ero Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Spero che si è visto il data la camera. Mamma mia! Mamma mia, il volo, il volo, il volo, il volo, signore mio! Non so come te lo devo spiegare. È arrivato là e è volato. È volato! Sanno sconcate le ruote! Spero che l'ha registrata la telecamera. Oh, come hai visto che ti ha armato e ho detto no! 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 Mamma mia, spettacolo, spettacolo! Oh, ce ne abbiamo un'altra qui! Robby Saiyan è il tempo di vendemmiare! Non so se si rende l'idea della pendenza! Mamma mia, mamma mia! Non penso che rende l'idea! Non rende, non rende! Non è l'idea! Non è un'altra! Non è un'altra! Non è un'altra! Non è un'altra! Non è una salire! Non è una salire! Non è un'altra! ragazzi come sempre con le telecamere non si vedono la pendenza ma ci sono delle radici che fanno paura fanno paura e che fanno paura In Calabria il terreno cambia da chilometro a chilometro, ma lì c'era pieno di pozzangra Il terreno è sbagliato, il terreno è sbagliato, è arido, il terzello non fa di più, c'è anche la polvere, in meno di un chilometro Facciamo l'aperitivo, dormiamo alla base Grazie a tutti 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 30 km Salute a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti